Gli ospedali per ora stanno reggendo la nuova ondata del covid-19, ma è evidente che il numero dei ricoveri nelle ultime settimane sta crescendo e questo allarma non poco i medici. Il dato è dovuto soprattutto al numero ancora elevato di non vaccinati. Ne è convinto il direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale di Chieti, Jacopo Vecchiet, che oggi gestisce un reparto dove un mese fa vi erano otto ricoverati, mentre ad oggi se ne contano 30. Quello che purtroppo era una variabile a me personalmente imprevista, la quota di soggetti che non hanno effettuato la vaccinazione e che in una circolazione come stiamo vedendo del virus, dopo averlo contratto, sviluppano questa grave insufficienza respiratoria che li porta necessariamente alla ospedalizzazione. Proprio ai Novax si rivolge il professor Vecchiet, i quali non vanno criminalizzati ma solo convinti con l'aiuto del dialogo, mentre ai già vaccinati raccomanda di effettuare quanto prima la dose booster. La realtà dei fatti è che è un vaccino che ha mostrato sui grandi numeri di essere un vaccino sicuro e di dare quella copertura utile in questa fase di ricircolazione del virus. Il sistema immunitario è un organo tra virgolette imperfetto, quindi quando stimolato dal vaccino non crea delle cellule immortali. Quindi abbiamo bisogno di fare anche la terza dose che dimostra che il vaccino funziona in virtù anche appunto di questo richiamo ulteriore. Non deve metterci in una condizione di sfiducia nei confronti del vaccino ma è un iter normale come noi abbiamo imparato per tanti altri virus che necessitano di una vaccinazione che va ripetuta almeno tre volte. Intanto già a livello nazionale si è aperto il capitolo intorno alla quarta dose, un appuntamento certo qualora il virus andrà fronteggiato come un'influenza comune ma senza creare allarmismi soprattutto per le tre dosi già effettuate. Cioè una quarta dose che contenga anche la possibilità di difenderci in maniera più evidente contro le varianti è sicuramente una dose eventualmente utile che potrebbe non essere sbagliata. Sulla variante Omicron, presente anche in Italia, che potrebbe rimpiazzare la variante Delta e diventare dominante entro Natale, c'è cauto ottimismo anche se Vecchiet frena. Al momento per quel poco che sappiamo è una variante che non riesce a eludere la vaccinazione però è chiaro che avendo aumentato la sua capacità di diffusione potrebbe mettere di nuovo un'ulteriore variabile di difficoltà diffondendosi in maniera maggiore tra la popolazione ed è ovvio che quanti più soggetti non vaccinati troverà peggiore sarà l'impatto sulla popolazione generale e quindi anche sulla saturazione dei posti letto in ospedale.